Questa è la storia di una parola, una strana parola che nel corso degli anni ha assunto significati diversi. Per qualcuno indica una persona che prova rimorso e rincrescimento e ha a che fare con i sentimenti più profondi, come quelli religiosi. Per qualcun altro invece indica qualcosa di molto concreto, un accordo di collaborazione, un dare e avere sancito dalla legge. Per altri ancora invece significa infamia e tradimento.